Toccherà la provincia di Salerno predisporre gli interventi, coordinare i lavori, oltre che naturalmente reperire le risorse utili a mettere in sicurezza e riorganizzare i 140 istituti scolastici che rientrano nelle competenze dell'amministrazione provinciale di Salerno. Il presidente della provincia, Michele Strianesi, è a lavoro in questi giorni con incontri anche con l'ufficio scolastico provinciale. Sulle scuole ovviamente ci saranno i problemi degli spazi, stiamo attendendo un po' l'ufficialità delle linee guida per ripartire in sicurezza a settembre. Nel frattempo facciamo lavori di manutenzione e quindi di investimenti programmati che in parte abbiamo dovuto sospendere con l'emergenza Covid. E nello stesso tempo si sta lavorando anche con il provveditorato, con i presidi per determinare la necessità di spazi. Ma questo sarà valutato nelle prossime settimane anche perché sarà difficile reperire nuovi spazi. Quindi che la provincia possa, come dire, locare o possa avere disponibilità di altri immobili che siano adeguati a scuole. Quindi questa è una valutazione importante sulla quale si chiederà una mano al governo. Come sapete ci sono degli investimenti programmati sulle scuole, proprio per dare la possibilità a livello nazionale a tutte le province, a tutti i comuni che hanno in gestione edifici scolastici, di fare lavori per la messa in sicurezza dal punto di vista sanitario. Nel frattempo la fine del lockdown ha consentito di riprendere i lavori già avviati. A ribadirlo è lo stesso presidente estrianese, oggi a margine della riunione del Consiglio Provinciale, utile al riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Sì, assolutamente sì, stiamo lavorando su questo dopo appunto la fine del lockdown, a far ripartire i cantieri già dal 4 maggio scorso. Stiamo facendo continuamente riunioni per sbloccare i lavori sulle scuole, quindi messa in sicurezza con il settore edilizia scolastica, ma stiamo lavorando tantissimo sul fronte del mare per la riqualificazione delle acque, quindi la bonifica e il risanamento dei corpi idrici superficiali. Si lavora da Conca dei Marini fino al Cilento con 8 cantieri che in tutto sono circa 90 milioni di euro di lavori finanziati dalla regione Campania. Stiamo lavorando anche su Salerno Città per collegare i reflui, per portare i reflui da Cetara a Salerno, nel depuratore di Salerno, per fare in modo che non vadano appunto in acqua. Quindi un lavoro incredibile. Sulle strade stiamo riprendendo tantissimi cantieri. Partono nei prossimi giorni circa 4 milioni di euro solamente con gli accordi quadro, finanziati dal MIT, e poi tantissimi cantieri con i fondi regionali, che ci ha trasferito il governatore De Luca, con la Delibra 104, con i fondi POR. Stiamo lavorando ovunque e quindi ci impegniamo al massimo per far sì che in provincia si investa tanto, si rimetta in modo economia e che le imprese abbiano l'opportunità di riprendere davvero tutto il loro cammino dal punto di vista economico e quindi offrire lavoro. Grazie. Grazie. Grazie.